Saranno radiologi, fisiatri, infermieri professionisti e tecnici sanitari. Dieci figure professionali che dal prossimo 7 aprile entreranno a far parte dell'organico di Villa delle Ginestre, dipartimento di medicina riabilitativa per medulolesi dell'ASP di Palermo. Dieci assunzioni che per il commissario straordinario dell'azienda sanitaria palermitana Antonio Candela daranno un bel po' di ossigeno a tutta la struttura ospedaliera che potrà così migliorare la qualità dell'offerta sanitaria che propone. Grazie